Oggi andiamo in Michelea a comprare le cose per fare il nostro letto, perché c'è un po' stufo di tornare sull'uno singola. Sì. Come lo faccio stasera? No. Notte? Bene, dai. Anch'io. Bene, dai. Dai. Comodo non è? Comodo non si può dire. No, 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 no. Ho un po' mal di gola, sai? Eh, come dico, bella acqua si è. Oh mio, che bella acqua, bella, bello. Eh, oggi è stupendo. Noi andiamo a piedi di Ikea con l'autobus. No, non direttamente, andiamo a pezzo in autobus, in pulma. Sì, prendiamo l'autobus per l'aeroporto e dopo camminiamo dall'aeroporto fino a Ikea. Quanti chilometri sono? Sei, otto. Ah. Dai, vediamo. Oh, guarda c'è il pescatore. E' bellissimo. E' bellissimo. Come noi non ce la fa a capire, se noi ci riesco a prendere i soldi. Allora, proviamo un po' di provino. Primo alternativo, sbagliato. Proviamo un'altra volta. Sembra funzionato. E' quello giusto, forse ce la fa, ben 10 euro, non è strassante, è accettante, eh amore, vai via, brava Sì, si prende l'autobus, iniziare in buon tempo, così non ci devo correre tutta la strada, comunque, però, ben collegata, si è racchiusa la Catania, all'eloporto, sono ben collegate, e qua si deve ricordare, trattare sempre scarpe postive, eh, fondamentale, eh, sì, sì, se uno non ha la macchina, se uno non ha la macchina, esatto, esatto, Grazie Grazie E' la Catania? Ah, bella Però non avevo capito se lei col pullman si fermasse prima o dopo l'aeroporto per andare all'IKEA Mamma mia, è altissimo, è da qua si vede quanto è alto E non andiamo là, non c'è neanche una macchina sul pacchetto, siamo al primo Cuffia! Sai dove è Cuffia? Sai dove è Cuffia? Cuffia Questa è Cuffia Siamo in Cuffia Siamo in Cuffia Lì c'è un dato, c'è la Cuffia, c'è la... Lì c'è l'Etna, lì c'è l'Etna Bellissimo è l'Etna Allora Amanda, secondo me se devo fare proprio la stessa strada che ha fatto prima e quel ponte fa un po' paura E' vero o no? Non c'è tanto Ah, guarda questa Questa è una cosa E' vero o no? 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 Sabato Sabato Nel sabato E' Ikea e vedete che mi serve per l'angolo ora provate faccio un po' un carrello in TDO ti conviene mai avere una cosa così vedete che se questo si apre e chiude allora è caldo in letto però non risolve il problema con le immagini capisci siamo nel posto dell'ufficio e forse è quello che noi abbiamo bisogno noi stiamo pensando in questo tra di questi a fare la magia che bella essere a casa materasso doppio finta non siamo ancora in casa siamo ancora in terra materasso doppio ok si è stampato la carta Ikea Family la tengo io adesso vai andiamo tu hai parlato con lui? si andiamo viene Mustafà? si viene Mustafà perfetto ci sono ancora le magie e le tavole e dopo si aspetta Mustafà si va a casa scarica la roba dopo c'è costruirlo e ancora comprare altra roba è una roba è una roba sono bravi i svedesi sono bravi i svedesi chi non può ammettere? la svenska ho caricato le cose con Mustafà siamo qua stiamo tornando ecco siamo contenti dalle 10 di stamattina sono le tre e mezza un po' di ordine che è? allora si è tornato a casa c'è il madrasso c'è le sedie c'è il c'è il c'è il piatti i picchieri le 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 c'è un sacco di cose nuove ovviamente soprattutto non poco e come si dice c'è anche tutte le tavole di Toni per cui siamo per attrezzarti per per fare e siamo molto fitti per cui ci devo organizzarsi bene